E con le note del grandissimo Lucio Battisti che la Lazio abbandona il campo però prima portando a casa tre punti d'oro è una vittoria prestigiosa, affascinante quello che porta a casa appunto la squadra bianco celeste lo dico, so gasato, so entusiasta e sto anche godendo si, 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 voi mi prenderete per matto e fate, fate di me quello che poi volete però io ci godo a queste vittorie quando una squadra italiana poi alla fine si dimostra, almeno stasera si può dire tranquillamente più forte di un avversario comunque importante come il Dortmund importante, importante questo fa sì che poi anche la nostra competizione, la nostra Serie A acquisisce maggior competizione, maggior fascino, prestigio come stavo appunto dicendo prima so contento, so contento ma parliamo della gara, parliamo di questo 3 a 1 partiamo da Immobile un gol, un assist, tantissime critiche per lui mai come adesso condivido appieno il pensiero di Florenzi vi ricordate l'intervista di Florenzi? noi qua stiamo un po' a trattare il caro Ciruzzo come l'ultimo dei Moicani sempre agguerriti e con critiche feroci eppure, 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 eppure sto ragazzo, sto ragazzo delle qualità le ha oppure veramente gli ha regalato tutto questa scarpa d'oro se la ritrova a casa senza sapere né come né quando né perché nulla succede per caso nulla, nulla succede per caso grande gol destro, se l'accompagna sul sinistro no, destro, la stopa dal destro la mette dentro con il sinistro gol d'attaccante, gol d'attaccante vero, proprio a quel Dortmund sua ex squadra ma vogliamo parlare dell'assist per per lo scioglilingua io lo chiamerei così lo scioglilingua assist perfetto al bacio ma avvolgiamo ancora di più il nastro perché lì tutto parte da un certo Luis Alberto ma che palla di esterno destro ha dato Luis Alberto ad immobile che palla gli ha dato il velluto il velluto che piede vellutato un batuffolo di cotone è molto più duro è molto più duro del tocco morbido di Luis Alberto di esterno destro che palla ragazzi io vivo per queste giocate io mi nutro di queste di queste magie di queste magie perché quella è magia è magia roba roba incredibile anche anche Dexter ha alzato la testa ha alzato la testa in segno di lode e e niente ottima ottima Lazio ottima Lazio concentrata attenta io adesso non ho visto la partita contro la Samp perché c'era il derby poi ho visto la Juventus in segnata e mi so perso la sconfitta contro contro la Samp appunto però di sicuro stasera invece c'è una squadra che voleva vincere che voleva stare lì sul pezzo concentrata e poi alla fine bisogna dire che anche secondo me è concesso poco o qualcosa devi concedere al Dortmund perché in campo ci va sempre un avversario degno di nota e poi non è un caso che segni Holland che è un fenomeno Holland è già un fenomeno ha già proprio ce l'ha proprio già stampato sulla testa sono un fenomeno un giocatore che non gli puoi concedere quasi nulla perché se gli dai leggermente un po' di spazio lui quello spazio lo aggredisce e colpisce che gol gli dà una carezza alla palla di piatto eppure parte una bordata incredibile per non parlare delle sue doti atletiche ripeto un giocatore che è incredibile incredibile e in quell'occasione bisognava stare un po' più attenti perché poi la palla che arriva dalla corsia di sinistra laziale dalla destra del Dortmund troppo troppo spazio lì quello spazio non devi concedere però ripeto non si può fare veramente la partita perfetta l'importante è poi non essersi indisuniti anzi aver fatto il terzo gol questo è un segnale forte questa vittoria della Lazio è un segnale forte ed è un bel segnale anche per il campionato italiano ecco un bellissimo segnale la Lazio che con questa vittoria assolutamente il girone tutto è tutto da lottare ma fino a poco tempo fa prima prima dei 90 minuti noi forse stavamo anche un po' scettici a pensare che la Lazio non potesse nemmeno giocarselo un girone del genere invece ci ha ci ha smentito ci ha preso a pugni in faccia metaforicamente ci ha preso a pugni in faccia bella Lazio bella Lazio complimenti alla squadra di Simone Inzaghi avanti così dai buonanotte buonanotte suonatori buonanotte a l'anotte a l'anotte a l'anotte a l'anotte Grazie a tutti.